andiamo avanti con il leone, il segno del leone finalmente oggi sarà sorridente questi leoni sempre un po' musoni in questo avvio di anno sempre con qualche critica da rivolgere a qualcuno sempre sospettosi adesso invece questa luna vi apre vi apre proprio ad un weekend che sarà diciamo più soddisfacente sotto tanti punti di vista ma che vi vedrà di nuovo al centro dell'attenzione perché con questi pianeti in pesci vi siete nascosti vi state celando agli sguardi anche degli altri ecco che anche l'amore riprende quota con nuove possibilità per i single per quanto riguarda il segno